Ad esempio però, questa cosa non la sapete, hanno censurato, addirittura rinunciando a tanti soldi, un'azienda che fa divani, che aveva proposto uno spot, e devo dire, la RAI, pure se la governance è di centrodestra, diceva che questo spot era leggermente... Ricordava vagamente... Ricordava vagamente qualcosa, ma vagamente! Allora gli ho detto, posso avere questo spot? Mi hanno detto ovviamente di no, ma io... Ma tu sei riuscito ad averlo. Claudio Faso l'ho riuscito. La spia, ricordava la spia. Avere questo spot che riguarda, credo, un'azienda che si chiama Salotti... Salotti è qualcosa, Salotti è qualcosa. E tu lo mandi in onda, scommetto. Lo mandi in onda sì, non so cosa ci hanno visto di destra in questo spot, prego. Vediamo. Uomini di mare, di terra e di divano, ecco qui l'italico sofà forgiato per essere messo nella tua camerata preferita. Modello Balilla, Salotti e Salò, a noi! Ci piace! In effetti, era un po' osso. Ma secondo me è un pochino però c'era, ma poco! Qualche cosina c'era! Grazie a tutti.